Praticamente Tutto che stavamo girando qua Sott'acqua così Ci so passato pure per sotto e non me ne so accorto Nemmeno Ma come si fa? Ma come si fa? Ah Gesù Gesù Cioè Se uno andava qui sotto dove stavano tanti Tutti quei bebesci Eccolo qui Ci so passato proprio sotto e non l'avevo visto Naffanculo Allora Vediamo dove porto No si che siamo saliti Quindi mo possiamo vedere bene Cosa succede Un'altra Vediamo un po' Ah Mo si Quindi mo Questi tubi spezzati Quindi ecco cosa si vivono Buttano tutto il fuoco E da quello possiamo bruciare ovviamente La bomba e far esplodere E mi pare pure giusto Fino a sti cosi si toglieranno da davanti Sono finiti No ne manca l'ultimo Schiaffo Perfetto Allora Bruciamo Il tubo Ovviamente Perfetto E mo possiamo Penso Bruciare quest'altro di tubo Se ci arriva Ovviamente Non ci arriva Ma Ma non ci arriva Eccolo qua E mo vediamo se ci facciamo per Per far schiattare Do sta Boh Come ci arriva Yo Si faccio Si può fare tipo in tempo Eh si Vabbè buona Tipo uno lo brucia E poi lo lancia Proviamo No Non si può Epic fail Ma io non lo vedo manco La bomba Li saliamo Dov'era 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 E' qua Allora Si Dicolo Vediamo un po' Forse Ah già Già Dove sono qui Inse ti c'era la corda Quindi là dobbiamo andare Giusto Giusto E andiamo Vabbè ovviamente Sì Da No Non ce la farò Niente Ovvio E manco da qua Eh si Per forza Qui dobbiamo andare Una cosa Veloce Veloce Vabbè Niente Dobbiamo per forza Stare vicino Vabbè Mo' è fatto Possiamo andare avanti Ok Uh Un nuovo tipo di nemico O no Non mi ricordo Ma per noi Non fanno Sembo stesso Aspetta Che era Questo rumore Andiamo prima di qua Che è meglio Anche perché Guarda un po' Una piccola Uh Uno scrigno Allora dobbiamo Uh Un altro Ma Che culo Dobbiamo notare Qua si Un artefatto Dobbiamo scendere Per forza Così lo odiamo Quella Vulgrim Che peccato Giù 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 Guerra Giù Al posto Sembra Artefatto Soldato Vabbè E basta Questo è Chi schifo Vergogna Ci deve essere Un modo per Aggiungere Lo scrigno Che caspita Se continui Qualcosa di Importante Ehi Sì Vabbè Allora Perfetto No Che peccato Cazzo Si Ma Ma Da qua Non penso Che uno Ce la fa La stanno I cristalli Ovviamente Qui non ci si può Salire No niente Non ce la fa Troppo Lontano Ma Mi sa Che dobbiamo Andare Per forza C'è A meno che uno Non arriva Andiamo di qua Da dove provenivano Quei rumori Inquietanti E te Sì Questo Si è Un nuovo Tipo Di nemico Vabbè però Non sembra Tanto Difficile Sembrano Tipo Quei mostri Iniziali Eh Due Vabbè Ne abbiamo ucciso Uno Ne uccidiamo Due No problem Finiti Yeah Una stronzata Qui niente No No Comunque Non ci può entrare Ok Andiamo avanti Che è Ah No Questa è nuova Ma vaffanco Uno su tre linea Due su tre linea Là sta pure la vita Amone So qua E che palle Ma boh Sempre meglio di quel coso Che esplode Quello lo odio Questo si può fare No Ecco Ora si Ora si Schiattate tutti Apposto Com'è Dovevi essere morto No No Penso che siano finiti Infatti Allora Dobbiamo andare a prendere la vita Là dentro Sicuro E poi ci sta Quella Quella frattura Nel muro Che ha aperto Il colosso Là Quindi andiamo a vedere Di che si tratta Ecco Che sei Frammento dell'armatura Degli abissi Buono Buono Quindi mostriamo A4 Forse 2 Non mi ricordo 4 su 10 Dove è messo So che all'inizio del gioco Ne ho saltati Due Forse ne ho saltati due Di frammenti Quindi poi casomai Grazie a Vulgrim I passaggi Là Tornerò indietro Per prenderli In modo che magari Mi farò tutta l'armatura Degli abissi Completa Quindi Si spera che Uno diventa ancora più forte Per il boss finale Poi Poi adesso Ci teniamo Questa armatura Qua Stamacchio Che buono Andiamo Bello Lasci quella Una chiave Quindi Mi piace Quando uno Deve andare Sott'acqua Qualcosa C'è sicuro Di nascosto Voglio andare Prima sotto Di solito Sotto C'è sempre Qualche Cosa Nascosta Uno Scrigno Questi Cosi Non ho ancora Capito A che Servono Boh Però Danno le anime Quindi Boh Cioè Non a che Servono Che su Uova Boh E ti pareva Che non c'è Uno Scrigno Qua su Ovviamente Frammento Dell'ira Buono Pure Le anime E una bella Manovella Da girare Ottimo Non sapevo Manco Dove stava Questa cosa Però Buono Quindi In teoria Dobbiamo andare Noi siamo andati Aspetta Che è dritto Quindi Dobbiamo andare a destra In quella parte Che Mosaiba La sinistra Giusto Yes Dovebbe essere Così In teoria Affanculo Sì 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 Infatti È la sinistra One One Mi ricordo Tutto Uno Scrigno Buono Immagino Immagino Che sia Infatti No Aspetta Questo è il Mietitore Pensavo fosse la chiave Per aprire la porta Incantata E dove sta Ah Già Giusto Dobbiamo andare ancora di qua Devo morire Ah È quella La ventola Che ho fermato Eccola qui Sicuro Deve essere Questa Sicuro Infatti La chiave Dell'osservatore No possiamo Andar avanti Dai 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 Eccoci qua Mettiamo la chiave E siamo pronti Per andare avanti Mettiamo la chiave